quando dipinge questa artista usa i colori come parole e forme per usare le parole dell'artista stessa e quando scolpisce probabilmente usa le forme come colori e parole sto parlando di patrizia borrelli medico quindi un artista laureata in medicina che ha studiato arte e storia dell'arte un artista che si è formata alla scuola di turcato un artista assolutamente importante e che quindi sicuramente in grado di infondere un'impronta significativa agli allievi che hanno imparato da questa scuola si sono occupati di patrizia borrelli e neocalabria vittorio sgarbi insomma un percorso assolutamente nutrito e importante per questa artista che oserei definire non tanto eclettica ma quanto profonda nel sapere nella sapienza dell'arte e della conoscenza dell'arte e quindi dell'utilizzo della materia dei materiali e nell'espressione ed è sintomatico dall'opera che stiamo presentando e anche patrizia borrelli come gli altri artisti si presenta alle aste di Prince Art Gallery Casa Taste